Buongiorno a tutti, mi dispiace per questo ulteriore clamore. Io sono sereno perché già venerdì sera a Piazza Cairoli sono stato avvicinato da un noto personaggio della politica siciliana e anche ritengo della massoneria, nonché un parente molto stretto di magistrati, il quale mi ha fatto i complimenti della campagna elettorale e mi ha anche detto lo sai che è tutto inutile quello che ha fatto. Questo stesso personaggio il lunedì ha telefonato a un nostro amico, nonché suo collaboratore, e gli ha detto che era inutile l'elezione di Cateno perché sarebbe stato arrestato e sarebbe subentrato il primo dei non eletti, Danilo lo giudice. Ora capirete pure perché forse ho insistito molto affinché venisse eletto Danilo lo giudice, perché sapevo di scontrarmi definitivamente con i poteri forti di Messina, massoneria e vari ambienti che naturalmente non vogliono che io faccia il sindaco di Messina. La vicenda che riguarda questo arresto fa ridere perché è una vicenda molto semplice. Io vengo accusato di essere stato il regista di un'evasione fiscale di un ente collettivo, il CAF Fenavi, cioè di un ente che non è mio. Originariamente questo era uno dei 15 procedimenti penali che sono stati aperti al mio carico e che poi di questi 14 sono stati chiusi con sentenze di assoluzione piena o con archiviazione perché il fatto non sussiste. Questo procedimento originariamente aveva come capi di imputazione, se abbatate bene, appropriazione in debita, peculato ed evasione fiscale. Abbiamo chiarito tutto con il Pubblico Ministero e era rimasta questa storia dell'evasione fiscale, per la quale è pendente presso la Commissione regionale tributaria un ricorso. La Commissione tributaria stessa aveva comunque sospeso tutti i provvedimenti cautelari e tutto questo si verificava a giugno 2015. Paradossalmente sono passati oltre due anni e ci siamo trovati all'improvviso con questo provvedimento che è conseguenziale alla mia dichiarazione dell'1 gennaio 2017 di volermi candidare al sindaco di Messina. Il primo che mi ha convocato nel suo salotto a Messina è stato sempre questo personaggio che rappresenta questi ambienti e che era l'indicato a candidarsi al sindaco di tutti questi ambienti. Io ho avuto più richieste di aderire alla massoneria e ho detto sempre no, ma non perché non la condivida, perché sono un uomo libero e dico ovunque il marcio c'è in politica, c'è nella massoneria, c'è nella magistratura, nella chiesa c'è ovunque, quindi non bisogna mai generalizzare. Dico semplicemente a tutti voi questa battaglia io la porto avanti fino in fondo. Ho fatto due denunzie contro una parte della magistratura e gli organi inquirenti e io lo dico chiaramente, mi possono solo ammazzare, ma continuerò a testa alta a difendere la mia dignità e soprattutto a difendere tutti coloro che non hanno la forza e mezzi per potersi difendere, che si sono ammazzati per la mala giustizia, che sono rimasti in carcere per anni e poi sono stati scarcerati. Allora non è pensabile che in uno Stato libero, quando tu dici ai magistrati che sbagliano, ti sei sostanzialmente scritto la sentenza di morte, non mi sta bene e continuerò fino in fondo a difendere i veri diritti per combattere tutte le forme di mafia. Ora vi saluto e vi prego diffondetelo questo video, diffondetelo in modo tale che anche i cosiddetti giustizialisti improvvisati che servono solo per coprire l'incapacità politica ne prendano atto. Caveno De Luca non si farà macinare dal fango fino a quando avrà l'ultimo respiro, si difenderà in tutti i luoghi. Vi saluto e grazie, grazie per il vostro affetto e per il vostro sostegno.